Ragazzi, una cosa pazzista, una cosa incredibile, la Merkel ha dichiarato che vuol diventare una donna, la Merkel una donna, ma te la vedi tu la Merkel con le gonne, la Merkel che fa la pipì seduta, ma è una cosa che sconvolge l'intero ecosistema e gli ecologisti non dicono niente, ma che sia vero, io quasi quasi glielo domando, il numero ce l'ho, me la ha dato un mio amico Gigino di Napoli, una bella guaglione che adesso sta a Roma, ecco me l'ha dato, c'era, 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 senta signora Merkel, ma è vero che lei vuol diventare una donna, sono una donna, non sono una panca, di comandare non sono mai stanca, e se in Italia c'è crisi nera, chi se ne frega, sarò sincera, ai panchieri l'ho già promesso, l'euro Marco trionferà, per l'Italia non ho rispetto, i suoi draghi di Sturgo fedrai, con l'euro la Germania può incassare, mentre l'Italia sta per sprofondare, vi prego di obbedire e non c'è l'onfichiatare, sono un'amerchelfoglio, comandare! Ha 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 ha